Grazie per averla qui con la lasciata di studio di cultura, la fondazione Italia-Giappone, la casentrice di Visual, sono veramente onorata di presentarvi come RomX d'oro a RomX 2010 di Yoko Ikeda Sensei! Scusate, mi sono le portazioni. Così era? E non rompere il cazzo. Io giudo qua, vedi giudo. No, così non puoi. Così almeno. Abbiamo anche il nostro intempere. Buonasera e benvenuta. Noi siamo veramente emozionati. Mi trema la voce, trema la mia voce, ma penso a sentire il tremare delle voce e la conmozione di tutte le persone che sono qui in sala. Benvenuto davvero. Buonasera e benvenuta. a questo incontro Siamo un po' emozionati Abbiamo qui dietro una bellissima immagine Eccolo da Raffaelli Ci siamo Avremo più di due ore per parlare con la Ikeda Sensei La prima cosa che vorremmo farvi vedere Sono delle cose che ha fatto già qui a Roma Ikeda Sensei con Romics Abbiamo fatto delle foto Anche per lei è una sorpresa Perché non sapeva che le avrebbe viste qui Ikeda Sensei è arrivata questa domenica E ha fatto una cosa specialissima per il pubblico italiano E la vediamo Adesso facciamo vedere le foto che abbiamo scattato Ieri sera Ieri sera ha tenuto un concerto di musica lirica Perché come scopriremo Ikeda Sensei è una cantante soprano E ha tenuto un concerto di musica lirica Insieme al marito Io città Capraca e Purata Che è qui in sala con noi Se passiamo avanti con le foto ci sono altre sorprese Ecco qui l'altra Proprio ieri sera Ancora avanti Avanti ancora Ancora avanti Eccola qui Proprio poco fa Letiteremo la conferenza stampa con tantissimi giornali Andiamo ancora avanti Avanti ancora Ecco qui Tutta la sua bellezza Appena arrivata Non è di sera Nella residenza dell'ambasciatore Ambo E infine Eccola qui A Piazza del Popolo Arrivederci a Passo Forse qualcuno di voi c'era Ha visto le foto Abbiamo fatto una bellissima sfidata A Piazza del Popolo Con il suo bellissimo vestito Da Maria Antonietta Ma adesso Lasciamo a lei la parola Io le vorrei fare Innanzitutto Una primissima domanda Com'è stato stare qui a Roma in questi giorni Con tantissime antimiraghi ha fatto qui insieme a noi Eccola qui insieme a Roma in questi giorni Sono stata per la prima volta a Roma trent'anni fa. Ogni volta che vengo a Roma la cosa che più mi piace male è passeggiare per vivere la città. E anche questo mondo è molto bello di passeggiare per Roma. E io ho studiato l'Opera Lidica, ma ho scoperto di Roma. E sono stato veramente felice. Ma questa volta è un'occasione ancora più particolare perché sono voluto intervenire a tanti eventi e soprattutto per me che studio la musica lidica ho avuto la possibilità di cantare in questa città. Roma è ricchissima di grandi memorie ai monumenti del passato. E noi romani avevamo la fortuna di vivere in mezzo a questi monumenti. E anche io ho avuto un grandissimo piacere di passeggiare per Roma. È la prima volta che vengo fino a qui alla Fira di Roma. E oggi e domani avrò modo di passare qui con voi molto tempo insieme. E di questo mi sono molto contenta. Grazie a tutti.